Questa è la Build 2023, io sono Mattia e oggi vediamo come configurare completamente con Betaflight un quad per freestyle. Questo è il quad che vi ho mostrato come assemblare nei video precedenti, quindi scelta dei componenti e poi tutte le saldature da fare. E' un drone con DJI che potete acquistare anche in kit da Drone 24 Hours in Italia. La configurazione Betaflight in realtà varie per anche altri droni infatti con lo stesso stack che è lo Speedy B F405 V3. O comunque in generale se vi guardate una configurazione completa riuscite a capire qualcosa anche per configurare quad completamente diversi. Per la configurazione completa abbiamo bisogno di fare più passaggi. Il primo sarà quello di configurare l'ESC e per questo vi lascio in descrizione il mio video su Blue Jay. Vi lascio quel video perché la procedura è rimasta totalmente identica, quindi seguite quella procedura e una volta aggiornato l'ESC si procede con la configurazione Betaflight che vediamo adesso. Altra cosa che andrà fatta sarà andare a fare il bind tra la ricevente che avete acquistato e il vostro radiocomando e quello dipende anche dal sistema che avete scelto. Quindi se avete scelto Express RS vi lascio in descrizione i video su Express RS che vi potranno chiarire anche il bind o comunque l'aggiornamento con i vari software che si utilizzano per Express RS. In questo video vediamo proprio la configurazione Betaflight che è quella secondo me anche più complessa. Per configurare il nostro quad la prima cosa da fare è avere appunto il configuratore di Betaflight. Vi lascio in descrizione il link da cui scaricarlo. Il configuratore più recente è il 10.9.0 è un applicativo che va scaricato in base al tipo di sistema operativo che utilizzate. Se avete un computer con macOS ovviamente scegliete la versione macOS. se invece avete un computer con Windows potete scegliere tra la versione portable che quindi non va installata ma va solo aperto l'archivio che contiene il configuratore oppure la versione installer che proprio vi installa il configuratore come fosse un qualsiasi applicativo normale. Una volta installato il configuratore andiamo effettivamente a fare la configurazione. Per il nostro quad abbiamo bisogno di un cavo usb di tipo C perché il nostro flight controller ha una usb di tipo C e nient'altro in realtà. Tenetevi pronta magari una lipo anche se non carica al 100% perché andremo a vedere anche la rotazione dei motori se è corretta e quindi anche vedere se il quad riconosce l'esc correttamente. Cosa che dovrebbe succedere senza problemi se avete flashato BlueJ come nel video che vi ho linkato sotto. Apriamo il nostro configuratore di Betaflight. Se volete saltarvi praticamente la configurazione e installare un file che vi fa la configurazione automaticamente, ve lo lascio in descrizione e vi spiego ora come si fa. Ma per poterlo fare serve che la vostra build sia esattamente identica alla mia. quindi dovete aver montato tutto come ho fatto io nel video dell'assemblaggio e dovete usare anche più o meno gli stessi pesi. Quindi GoPro Session davanti o comunque una cam HD montata davanti con un peso simile. Come lipo io utilizzo le R-Line 1050 della Tattoo che vi lascio linkate in descrizione e trovate sempre nello store che vende i kit per assembliare il drone. E soprattutto le eliche sono le HQ J37 che in realtà vi vengono date già assieme al kit se lo acquistate. Se rispettate tutte queste cose le uniche cose da fare sono andare ad aggiornare il firmware della FC ed è molto semplice. Colleghiamo il nostro flight controller al pc. Con questo configuratore si è collegato in automatico ma potete fare connetti qua in alto. Se faccio disconnetti vedete trova una com che viene rinominata come Betaflight STM32. Facciamo connetti e vedete che qui c'è la configurazione completa. Noi però prima dobbiamo assicurarci di essere sulla versione corretta di Betaflight. Per questo quad e questa build io ho utilizzato l'ultima versione ufficiale disponibile e andiamo ad installarla. C'è aggiornamento firmware. Qua andiamo a scegliere la scheda ma generalmente si può cliccare su automatico e vedete che ci va a selezionare speedy B F405 V3. Controllate che sia corretto se è questo il target che vi viene consigliato dalla scelta automatica. Essendo questa la FC che stiamo utilizzando possiamo utilizzarlo. Come versione io utilizzo 4.4.2. Ci sono varie polemiche aperte su questa versione di Betaflight ma se configurato correttamente e con stack decenti non dà problemi. In race lo utilizziamo praticamente tutti e nessuno ha avuto grossi problemi. Selezionate sempre cancella completamente il chip perché è indispensabile per andare a portarsi una FC completamente pulita e spesso non cliccare su cancella completamente il chip. Fa nascere vari problemi che poi si attribuiscono ai firmware o cose che in realtà non sono la fonte del problema. Sulle impostazioni qui non andiamo a toccare nulla perché la configurazione base va già bene per il nostro quad e possiamo fare carica firmware online e poi flash firmware. Attenzione se fate flash firmware e il PC non riesce a flashare il firmware c'è una soluzione. Si può andare a prendere un programma che si chiama ImpulseRC Driver Fixer. Si avvia il programma, si collega l'AFC al PC e questo programma va a sistemare i driver per il vostro flight controller. Se non sapete come si fa vi lascio in descrizione anche questo video, è un video vecchio ma che va sempre bene. E questo discorso non vale solo per l'AFC ma per tanti altri prodotti basati su sistemi STM quindi anche per esempio per i radiocomandi o cose del genere. Vi va a sistemare i driver sia dell'AFC normale sia della versione DFU che se non sapete cos'è non importa. Sappiate solo che se il flash non funziona usate quel metodo lì. Per me il flash funziona quindi faccio flash firmware. L'AFC viene riavviata e viene cancellato tutto il contenuto dell'AFC prima di andare a installare la nuova versione che abbiamo scelto. Ci dice programmazione riuscita e quindi possiamo andare a fare la configurazione. Clicchiamo su connetti e qui ci chiede se andare ad applicare i predefiniti personalizzati. Sono praticamente le configurazioni dell'AFC di base e dobbiamo farlo quindi clicchiamo su applica. Il configuratore ci dà questo avviso che noi possiamo ignorare perché adesso andremo a fare tutta la configurazione. Andiamo nella tab preset e come vi dicevo prima c'è la possibilità di saltare la configurazione se avete fatto la build uguale alla mia e per farlo basta fare carica backup e andare a selezionare il file che vi lascio da scaricare in descrizione. Questo file lo potete utilizzare per configurare completamente il quad ed è sostanzialmente un backup del mio quad. Se vado a cliccare faccio apri viene applicata la configurazione vi da solitamente questi due errori che gli da praticamente sempre però non c'è nient'altro. Facciamo salva comunque il flight controller si riavvia e poi ci troviamo con un quad completamente configurato. Ora comunque vi mostrerò tutti i passaggi e anche se fate questa configurazione tramite il backup c'è una scheda che dovete controllare che è la scheda motori. Se volete saltare la parte in cui spiego tutto il resto guardate i timestamp sul video però quella parte diciamo che va ricontrollata. Partiamo dall'inizio per chi invece vuole fare la configurazione passo passo andiamo in setup e qui la prima cosa da fare è con il quad appoggiato alla scrivania e ben in piano andiamo a cliccare calibra accelerometro. Il quad vedete che si livella a schermo e quindi ora il quad sa qual è il piano questo serve per la modalità stabilizzata. In porte andiamo a configurare le nostre porte in base a come abbiamo saldato i componenti. Sulla UART numero 1 abbiamo saldato la nostra Air Unit quindi andremo a scegliere configurazione MSP e andare a selezionare VTX MSP DisplayPort che è il modo per far funzionare il nostro OSD sulla CADX Vista. Parentesi io sulla vista utilizzo VTF OS che è il firmware custom che vi permette di avere lo OSD completo. Per utilizzare lo stesso OSD che utilizzo io c'è la mia guida in descrizione e potete fare lo sblocco dei vostri DJI e anche lo sblocco delle Air Unit. È molto comodo perché vi dà qualche opzione in più e tra l'altro ora funziona anche sui firmware più recenti quindi non ci sono più problemi nel dover scegliere solo i firmware vecchi. Sulla UART numero 2 abbiamo la nostra ricevente quindi selezioniamo RX seriale, UART numero 3 è vuota, UART numero 4 lasciate cliccato il configuratore MSP perché è la UART dove è collegato il modulo Bluetooth di questa FC e Wi-Fi se non sbaglio anche che vi permette di fare la configurazione con lo smartphone con l'app SpeedyB. Infine nella UART numero 5 abbiamo il nostro ESC quindi la telemetria dell'ESC non la useremo ma comunque possiamo configurarlo. Ricordatevi salve e riavvia e passiamo alla prossima scheda. Siamo nella scheda configurazione e qui non c'è molto da modificare. Andiamo a spegnere il barometro perché non lo utilizziamo su questo tipo di quad. Potete dare i vostri nomi per quad quindi nome del modello e nome del pilota. Poi per il resto qui importantissimo siccome abbiamo montato lo stack girato di 180 gradi dobbiamo andare in questa parte e modificare gradi YOW inserendo 180 quindi inizialmente trovate 0 qua invece andate a scrivere 180. Lasciate acceso l'accelerometro e lasciate la frequenza PID loop a 3.2 e poi qui da modificare c'è solo i gradi di arma. Questo vi permette di armare il quad anche se è capovolto e è molto utile per recuperare un quad quando si trova per esempio incastrato su un albero. Mettete 180 ed è l'unica modifica da fare. Facciamo salve e riavvia e una volta fatto questo torniamo nella prima scheda che è la scheda setup e controllate che muovendo il drone, il drone che vedete qui sulla simulazione si muove allo stesso modo questo vi fa capire che l'FC è orientata nel modo corretto ed è un errore banale ma che spesso succede anche ai più navigati ed è successo anche a me la prima volta che ho configurato questo quad. Non serve andare a toccare sensori batteria e face safe perché solitamente è già tutto corretto. Face safe lasciamo sempre il lascia cadere a meno di avere un GPS. Vi mostrerò come configurare il GPS però non in questo video e si può tranquillamente montare il GPS su questa build. Andiamo in preset e qui un preset che vi consiglio di utilizzare se avete soprattutto la O3 oppure VTF OS che è il firmware custom per DJI che vi dicevo prima e di andare a utilizzare questo. Questo preset vi fa la configurazione in automatico quindi è comodo e andate a scegliere solo la UART dove avete saldato la vostra VTX. Nel nostro caso la UART numero 1 quindi spuntate questo Use DisplayPort and MSP VTX on UART 1. Una volta fatto questo si fa seleziona e viene flashato questo preset. Oltre a questo nella scheda preset c'è da fare il preset per la nostra ricevente Express RS. Andiamo a cercare ELRS e questo vi aiuta a capire anche come funziona solitamente questo sistema. Io personalmente non faccio long range quindi mi basta il range dei 500 Hz. Voglio la latenza più bassa quindi vado a scegliere Express RS 500 Hz. Se volete un range più alto potete scegliere il 250 e ovviamente impostare nel vostro modulo Express RS 250 Hz. Io scelgo Express RS 500. Vediamo le opzioni. Qui ci sono opzioni di modifica delle impostazioni della ricevente. Io preferisco avere il preset freestyle oppure addirittura il preset race solitamente perché voglio la minor latenza possibile. Poi andiamo a dirgli che la nostra ricevente è seriale. Qui scegliete single cell values perché è più comodo e poi niente per il resto non c'è nient'altro da fare. Diamo seleziona e vedete se faccio salva e riavvia viene impostato questo preset e ci troviamo con la configurazione corretta per Express RS. Prossima scheda è messa a punto PID. Qui c'è un po' un discorso da fare perché in questa configurazione io sono andato a fare dei test con Blackbox con il metodo per trovare i PID corretti che vi ho mostrato anche qua sul canale. Link al video sempre in descrizione e questo metodo vi fa capire più o meno la configurazione dei PID andando anche a tirarla al massimo quindi con una configurazione poco conservativa e che spesso magari se avete le eliche rotte o comunque il quad non in perfette condizioni può portarvi a bruciare qualcosa. Io quindi ho fatto una configurazione sempre con PID Toolbox e vi lascio qualche screen dei test che ho fatto però ho cercato di tenere una configurazione abbastanza conservativa. Quindi qui vedete che ho usato dumping di l'ho portato a 1.2 questo è il valore che mi indicava effettivamente PID Toolbox. Ho tolto il dumping dinamico perché semplicemente a me non piace come agisce soprattutto sul freestyle e poi ho portato il moltiplicatore master a 1.1. Qui diciamo che se volete una quad con una latenza un po' più bassa e soprattutto con ancora un po' più prestanza e più locato potreste portare il moltiplicatore a 1.2. Diciamo che lì però vi portate su un quad che deve essere sempre tenuto in ordine se cambiate le eliche poco spesso e se spesso volete anche in ambienti in cui il quad si sporca molto o comunque non è sempre ripeto in condizioni ottime vi consiglio di tenere 1.1. Per il resto qui non dobbiamo cambiare nulla e possiamo dopo aver dato ovviamente salva andare nelle impostazioni dei rate. I rate sono assolutamente a vostra discrezione però io vi consiglio questi rate con cui iniziare che sono dei rate molto facili perché molto docili al centro e che hanno comunque velocità agli estremi dello stick che vi permette di fare qualche flip veloce e quindi più facile da prendere. I rate li potete copiare ve li lascio qui l'unica cosa da considerare che dovete passare al tipo di rate beta flight. Sono i soliti rate che utilizzo se invece volete dei rate un po' più agili che sinceramente io attualmente preferisco potete usare gli actual base quindi gli actual che vi da senza toccare niente e con quelli siete più o meno a posto. Se volete rendere il quad un po' più docide e soprattutto diminuire il massimo di acceleratore potete andare qua su limite gas usare scala e qui io spesso anche quando voglio usare tutta la potenza del quad vado a togliere un 5% quindi mettendo un 95% perché fa una differenza enorme sulla durata della batteria. Qui possiamo fare salva e questo è fatto poi in impostazione filtri questi sono i filtri stock di beta flight non sono andato a modificarli perché molto semplicemente voglio che il quad vogli bene anche quando ci sono problemi sia di assemblaggio sia di eliche un po' storte ma ciullate o cose del genere. Per chi vuole tirare un po' di più questa configurazione si può andare a togliere una delle armoniche del filtro RPM perché comunque ho visto che non è necessaria la terza e con due è già più che sufficiente. Se fate questo mettete in due fate salva e avete cambiato questo parametro. Poi volendo andare a spingersi un po' di più si potrebbe andare a testare lo spegnimento dei filtri passo a basso soprattutto del numero 2 però immagino che chi copia questa build sia agli inizi quindi la differenza che c'è non giustifica secondo me il rischio di poter magari bruciare un motore quando avete eliche storte o cose del genere quindi io non mi spingerei più di così. Ricevente qui possiamo andare ad accendere il nostro radiocomando qui sia che usiate ExpressLRS sia che usiate Crossfire dovete andare a selezionare CRSF ma generalmente è già selezionato quando iniziate la configurazione perché è il più utilizzato. Mi raccomando su ExpressLRS il radiocomando fa il bind sulla ricevente solo se si accende prima il radiocomando e poi la ricevente quindi per fare qualche test dovete fare disconnetti, togliere il cavo, accendere il radiocomando, ricollegare i quad e andare a vedere che i canali siano corretti. L'unica cosa da considerare qui è che la mappa canali potrebbe non essere corretta quindi potremmo avere una mappa che ha i canali nell'ordine non giusto. Come si capisce voi guardate il gas se il gas anche senza toccare niente sul radiocomando è al massimo oppure lo yo è al minimo che è di solito la mappa diversa dovete cambiare la mappa. Si fa presto perché le mappe sono tre quindi andate per tentativi finché il canale del gas risulta corretto e gli stick che muovete sul radiocomando riflettono quello che vedete in questo schema. Altra cosa qui io sono andato ad abbassare la soglia stick giù e alzare la soglia stick su per avere maggiore risoluzione sull'acceleratore però questo si può fare solo se avete sistemato gli end point sul vostro radiocomando. Se non sapete cos'è c'è un video in cui vi spiego come impostarli è un video vecchio ma la logica è sempre la stessa e se non volete saperne sappiate che qua basta mettere 1050 e qua lasciare 1900 e siamo sicuri che qui generalmente funziona tutto. Se ancora quando provate ad armare vi dice throttle come allarme nell'osd potete provare ad alzare ancora un po' di più ma a quel punto io vi consiglierei veramente di fare la procedura degli end point. Diamo salva anche qui e possiamo andare in modalità di volume andate a scegliere cosa fanno i vari switch della vostra radio la configurazione della radio l'ho mostrata molteplici volte praticamente per vari modelli anche di radiocomando e vi lascio in descrizione varie opzioni però una volta fatta la configurazione scelti i canali qua si va ad impostare i vari switch. Si può fare con la modalità automatica ma io dopo aver configurato la radio mi ricordo quali sono gli aux che ho usato. Generalmente su express rs siete obbligati ad utilizzare aux 1 per l'arm quindi qua andate a scegliere aux 1 e questo range lo spostiamo per avere la posizione che preferite potete avere uno switch tre posizioni al centro uno switch alla fine o all'inizio a vostra descrizione io questa è la configurazione che uso di solito poi la modalità angle la potete impostare su uno switch a tre posizioni per sicurezza io non la uso ma l'ho usata per il discorso dei PID e solitamente conviene un tre posizioni mettetela in uno switch in cui riuscite a uscire velocemente perché non è bello sbagliarsi e pensare di essere in angle e essere in acro e viceversa. La modalità acro non ha bisogno di nessuna configurazione quindi quando non è selezionato angle semplicemente il quad va in acro. Altre cose da vedere qui non ce ne sono se non che si potrebbe andare ad impostare il flip over after crash. Se non vedete questa impostazione è perché non abbiamo ancora fatto la tab motori quindi andiamo prima in tab motori saltando regolazioni e servocomandi che non ci servono. In tab motori è il momento di procurarvi una lipo queste sono delle 1200 van bene anche le 1200 però su freestyle preferisco le 1050 che sono più leggere. Prendiamo la lipo abbiamo il nostro quad sempre collegato qua dobbiamo selezionare di shot bidirezionale una volta selezionato facciamo salve riavvia e ci darà errore 100% perché il quad non è collegato a una lipo. Se andiamo a collegare la nostra lipo non ci dà più errore 100% ma ci dovrebbe dare 0%. Ora possiamo andare a fare riordine ai motori che è necessario perché il nostro quad ha la fc invertita clicchiamo su riordina motori sono al corrente dei rischi ovviamente è gli che tolte dal quad. Diamo avvia e vedete che muove un motore e ci chiede dov'è questo motore sarà in questo angolo qua. Ora sta muovendo il secondo motore ora il terzo e andiamo a sceglierlo e il quarto e andiamo a sceglierlo facciamo salva il quad si riavvia e rientriamo in modalità di questi motori. Si può andare a riparare anche la direzione dei motori anche se vi consiglio di farlo direttamente sul firmware dell'ESC quindi da Blue Jay con il video che vi dicevo prima e una volta controllata anche la direzione motori si va a verificare che tutti i motori ruotino nel senso corretto. Faccio girare i motori con la mano sento il senso della rotazione. Ora sono tutti corretti e per controllare che siano corretti guardatevi lo schemino qua in alto che ha la direzione di ogni motore come dovrebbe essere. Anche la tab motori è fatta e quindi possiamo passare alla tab OSD qui l'unica cosa da fare è selezionare HD perché stiamo usando una VTX HD e poi andate a scegliere la disposizione dei vari componenti dell'OSD a vostra discrezione assolutamente come preferite perché tanto deve essere utile a voi. Se invece non avete VTF o S i componenti in realtà che ho utilizzato funzionano tutti tranne avvertenze e l'RSSI che però sono secondo me i due più importanti e per questo per me vale la pena fare l'aggiornamento a VTF o S. Per il resto qui non c'è nient'altro da toccare volendo si può andare in black box per andare a impostare la black box l'unica cosa da vedere qua è mettere almeno 1600 perché 800 potrebbe essere utile ma 1600 vi fa capire meglio e mettere gyroscade. Qui abbiamo la possibilità di installare una micro SD quindi di spazio ce ne sarà tutto quello che vorrete. Ritorniamo però a vedere il discorso del flip over after crash perché dopo aver impostato i motori sarà disponibile anche questa possibilità. Qui scegliete uno switch libero della vostra radio che avete impostato seguendo i video di configurazione della radio. Aggiungi intervallo io scelgo l'AUX numero 3 e qui impostate lo switch per potervi girare quando atterrate ribaltati. Flip over after crash è una cosa che sconsiglio nel senso che sì è molto comoda ma spesso la gente brucia gli ESC con questa funzione perché non si rende conto che oltre ad essere ribaltata ha magari un motore ostacolato da qualcosa e spesso si va a friggere l'ESC perché tira più ampere cercando di liberarsi. Io lo uso però so quando posso usarlo e quando no. Sempre salva e qui praticamente la configurazione è completa. Vi ricordo e vi ripeto che in descrizione lascio il file per poter caricare la configurazione completa. E vi consiglio comunque una volta che avete configurato il vostro quad di andare sempre in preset e fare un salva backup che vi permette di fare un salvataggio della configurazione che avete fatto. La prossima volta che dovete rifarla sullo stesso quad flashate il quad e poi installate la configurazione e vi ripeto sempre di controllare la tab motori che non fa mai mai. Come al solito tutti i link sia per acquistare il kit sia per scaricare i vari file e vedere i vari video della configurazione sono in descrizione al video dove trovate anche il link al mio profilo Patreon che ho aperto da poco e dove inizierò a condividere sempre di più dietro le quinte e soprattutto anche un canale aperto per essere raggiungibile e aiutare chi ha fatto la build e ha qualche problema. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto se lo è stato iscrivetevi al canale lasciate un mi piace cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie per l'attenzione ciao